... Gentili telespettatori, ben ritrovati negli studi di Style Channel. Voglio ricordarvi che è una diretta web mondiale. Non nego di essere particolarmente emozionata, signori, perché accanto a me tra breve vi presenterò il mio ospite, un artista senza ombra di dubbio di rilievo, di massimo rilievo, un artista devo dire a tutto tondo, perché parliamo non soltanto di un pittore, ma di un architetto, di un design, di uno scrittore, di un poeta, eccetera, eccetera. Già vi anticipo che potete trovare tutto su di lui su Wikipedia, su internet, che ormai non ha segreti appunto per nessuno di noi. Vado velocemente a salutare il mio staff, Carlo alle telecamere, Giulio alla regia, Alessandra Burattin, come sempre nella chat online, soprattutto ai centralini, quindi per curiosità, domande, acquisizioni delle opere, eccetera, eccetera, potete tranquillamente chiamare al numero che vedete in sovraimpressione, 800 821 222. Voglio fare un appello al pubblico per ciò che concerne questa diretta. Allora, le opere che vedrete, appese a parete, che ci mostrerà la nostra regia, ancora non sono presenti sul nostro sito internet. Questa però, lo ribadisco, è una diretta televisiva nel febbraio, 3 febbraio 2015, quindi tempo una settimana, signori, allestiremo il negozio virtuale del mio graditissimo ospite, motivo per il quale dopo questa data potete trovare di tutto e di più anche sul nostro sito, che lo vado a ricordare, www.affordableartpoint.com. Ovviamente la mia regia mi ha detto, Alessandra, precisa questo, in quanto questa è diretta, ma poi ci saranno numerosissime repliche. Allora, signori, alla mia sinistra ho il piacere di presentare l'artista, il signor Nunzio Pascarella. Signor Pascarella, sono contentissima, felicissima di averla come ospite. Allora, qui è quasi imbarazzante da parte mia l'intervista, che sta per divenire, in quanto è difficilissimo farle delle domande specifiche, nel senso che la sua è un'attività immensa che ha spaziato in tantissimi ambiti. In tantissimi ambiti per lungo tempo. Per lunghissimo tempo. Un lunghissimo percorso artistico, ma soprattutto un prestigioso... Molto gentile. Eh beh, ma è vero, un prestigioso curriculum. Allora, iniziamo con il suo permesso dagli albori. Quindi, lei quando è che ha iniziato a dipingere, ma soprattutto quali sono i maestri e quali si ispirano? Io ho iniziato a dipingere 13 anni durante la guerra. E mi ha iniziato mio padre, che era un architetto, anche pittore. Iniziato a me e mia sorella. E dopodiché sono stato sulle impalcature del più grande affreschista italiano del secolo, che non è molto conosciuto, ma Amedeo Trivisonno. È un affreschista molisano, veramente grande. E l'ho seguito in diverse sue esibizioni, insomma, di pittura. E poi ho conosciuto anche Marcello Scarano, che era il poeta molisano della pittura, legata un po' alla scuola romana. E questo è stato il mio inizio. Dopodiché ho fatto tutto da solo, insomma. Beh, ho studiato l'architettura, ovviamente, insomma, eccetera. Ho la mia... Mi sono formato praticamente leggendo molto, molti testi, sia di letterari che sull'arte, insomma. Ecco, mi fa piacere, mi scusi, ecco, grazie, intanto sono arrivate le prime domande. Mi fa piacere che lei vada a sottolineare la sua cultura... Iniziale. Iniziale, però, ecco, poi lei appunto ha accennato che sia andato a documentare sempre. Credo che lei tuttora si documenti, nonostante abbia un bagaglio culturale. Ma sempre, sì, la pittura è cultura, insomma, vita è cultura. Senta, una curiosità, qual è stato il suo impatto proprio negli anni giovanili di cui parlava con la cultura dell'arte? Ma guardi, io ho avuto un problema. Praticamente, sono molto giovane e sono andato in Marocco, dove ero isolato, praticamente dal dibattito pittorico, insomma, artistico. Quindi mi sono dovuto affidare molto ai libri e quindi ho studiato molto. E poi è successa una cosa straordinaria. Prima io dipingevo paesaggi, natura e morte, eccetera, figure. Quando sono arrivato in Marocco, pensavo di poter fare dei paesaggi diversi, per esempio, no? Parlo di 50 anni fa, insomma, non parlo di adesso, eh? E invece mi ha colpito molto la luce diversa che aveva in Marocco. Questa luce mi ha portato con estrema semplicità verso l'astrazione. Quindi questo è stato un impatto molto bello. Quindi un inizio per una nuova... Sì, per un nuovo periodo di... Periodo di vita artistica, diciamo così. Artistico, sì. Senti, lei mi ha parlato di Marocco, ma io allora le voglio parlare anche di Turchia, Argentina, Algeria, Francia... Sì, ho vissuto in questi paesi molti anni e ogni paese ha le sue cose belle. È un artista che è sensibile, certamente non può rimanere insensibile di fronte a queste bellezze. Quindi questi paesi mi hanno dato diverse cose che fanno parte del bagaglio della mia cultura e della mia arte. Ecco, quindi sia un bagaglio personale ma anche come... appunto come artista. Come artista, certamente, certamente. Allora, con il suo permesso io andrei però a vedere, nello specifico, grazie Carlo, le opere, ecco, in studio. E intanto, mentre andiamo ad inquadrare l'opera numero uno, grazie Carlo, perché dobbiamo entrare nel cuore della sua arte, è arrivata una prima domanda proprio da Alessandra D'Abbassano del Grappa. Bellissimo. Allora, che le chiede, signor Pascarella, come coniuga architettura e pittura? Ecco, bellissima domanda. Per molti anni, nei miei anni giovanili, è stato un dissidio fra queste due arti, architettura e pittura. Perché? Mentre facevo architettura non potevo dipingere, perché il tempo mi mancava. E viceversa, mentre dipingevo non potevo fare architettura. Quindi io ne soffrivo. Ne soffrivo di questa, diciamo, differenza di arti. Finché poi non ho capito che l'una e l'altra possono andare insieme d'accordo e l'esperienza dell'architettura poteva trasportarla nella pittura e la pittura nell'architettura. Per esempio, disegnando una casa, un appartamento, l'esperienza pittorica si riviva per dipingere quella casa. Ed è diverso un architetto che ha una sensibilità pittorica da uno che non l'ha. Ecco, perfetto. Quindi spero che la nostra telespettatrice Alessandra sia stata... Evidentemente Alessandra studia architettura. È probabile. E dipinge anche. E ha questo dilemma. Vede. Allora, andiamo sull'opera punto numero uno, Carlo. Ecco, io vorrei che, guardando, ammirando questa sua creazione, ci raccontassi un po' com'è che nascono... Come è nata. Esatto. Quest'opera in particolare di Unzio Pascarella. Dunque, le spiego subito una cosa. Una notte mi svegliavo verso le tre di mattina, verso le tre di notte, e avevo di fronte a me due quadri sovrapposti l'uno sull'altro. Guardandoli, avevo la luce della strada che entrava nella camera, a Parigi questo, mi sono accorto che queste pitture si muovevano dal fondo verso l'avanti. Una cosa stranissima, no? Allora ho cominciato a riflettere. Che cosa mi succedeva? I miei occhi erano malati. Sono andato anche ad un oculista per evitare questo problema, no? E ho portato degli amici alla stessa ora per vedere se quello che io vedevo lo vedevano anche loro. Praticamente era come se dal fondo della superficie di questi due quadri si muovessero per un centimetro di altezza delle vibrazioni. E' come quando si ha su un televisore che si vede al principio tutte quelle quadrettine che si muovono, tale e quale. E allora ho cominciato a pensare, a indagare su questo fenomeno. E ho passato giorni, mesi, anzi, a indagare. E quindi uno di questi quadri, questo e anche quest'altro... Ecco, il numero quattro, mi scusi signor Pascarella, ecco dal numero uno seguiamo proprio il filone che l'artista ci indica. Quindi ecco, prego signor Pascarella. Da questi quadri qui ho cominciato a fare questa indagine e cercare di riproporre questo movimento dal fondo della superficie del quadro verso l'avanti per vedere se si riproduceva questo fenomeno. Ho cominciato a studiare allora diverse soluzioni, insomma che sono infinite praticamente. Questi due quadri sono due di questi esempi di cui vi parlavo. Senti signor Pascarella, mi scusi, quando hai iniziato questo particolare tipo di studio, che anni erano? Mi hai detto a Parigi... A Parigi erano, dunque vediamo un po', 92. Ecco 92. Senti, ha fatto presente che lei è un uomo che ha girato tantissimo, ha girato praticamente il mondo. Una mia curiosità, c'è un paese che le ha insegnato di più, infatti... Che le ha dato di più nel campo dell'arte. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, sì. Perché io sono stato a Buenos Aires durante il periodo degli ecidi, della guerra civile, no? Quindi straziante. Avevo in contatto con tutti gli altri artisti, diciamo, argentini e vedevo una cosa. E questi qui avevano una perdita della loro identità per le mancanze di radici europee che avevano perduto. Perché tutti quanti provenivano dall'Europa, no? I loro padri, le loro madri. Però guardavano non all'arte europea, ma all'arte nordamericana. Questo connubio, strano connubio di mancanza di una cultura particolare, ecco l'altra acquisita americana, dava una forma d'arte interessante che mi ha interessato. Ecco, quindi Buenos Aires, Argentina, in questo periodo... In questo periodo? Particolarmente... Sì, particolarmente crudo. Crudo. Terrificante. Certo, quelle piaghe che non... dell'umanità. Pensi che un mio amico architetto è stato cotto sulla graticola. Cioè, cose completamente agghiaccianti... Agghiaccianti che non riguardano l'arte. Eh sì, ci fanno quasi vergognare di chiamarci uomini e essere umani. Hai ragione, certamente. Allora, passiamo all'opera numero due, perché addestato, lei deve sapere, signor Pascarella, che ecco, guardi che bella immagine che arriva a casa. Noi abbiamo un pubblico estremamente attento, lo sa. Ah, quindi basta una panoramica, un'immagine e il pubblico a casa accoglie subito. Questo può sapere. E allora, guardi, le dico, Giuliana da Sassari, che è in collegamento con noi, chiede... È stata colpita, al di là della sensibilità artistica dell'opera numero due, dalla cornice. E chiede una spiegazione. Sì, una spiegazione. Va bene, la cornice è un frammento, no? Ogni immagine è un frammento, in realtà. Quindi non volevo affossare con una cornice importante quest'opera, che è stata esposta nel Museo della Salita a Parigi. E' piuttosto interessante la storia di quest'opera. Ecco, sentiamola. Dunque, si è fatta una mostra per 30 artisti italiani, residenti in Francia, quindi a Parigi, soprattutto, sulla smorfia napoletana. Ogni artista ha estratto tre numeri per fare, insomma, i cento numeri poi della smorfia napoletana. A me è capitata la torre, perché ogni numero ha un... nella smorfia napoletana ha un significato, e la torre. In questo caso, la torre, ho fatto l'immagine di Icaro che cadeva dalla torre, frantumandosi, mentre il cavallo sopra è il destino che passa, insomma. Ecco, andiamo a vedere un attimo, Carlo, l'immagine è in basso di Icaro, appunto. Andiamo proprio a vederla, a raccontare. Voglio che arrivi l'esattezza. Eccolo qua, a casa. Intanto stanno arrivando... Eh, signori, ma io vi capisco, Nunzio Pascarella è uomo e artista, l'abbiamo detto, a 360 gradi, quindi capisco che la vostra curiosità, non capita tutti i giorni, di poterlo intervistare. Allora, una domanda particolare, signor Pascarella. Allora, innanzitutto, Toni da Robbiate, mi dicono, in provincia di Lecco, che andiamo a salutare. Le scrive, lei ha una lunga e prestigiosa carriera artistica, motivo per il quale, quali consigli darebbe ad un giovane artista di oggi, di quest'epoca? Sì, il consiglio migliore che posso dare è il senso di libertà che deve avere, anche rispetto alle accademie che io non frequenterei. Ok. Perché l'accademia ti insegna certe cose, però ti uccide anche dentro quel grande senso di libertà che è un... Libertà di... Invece, penso che debba studiare molto, viaggiare, conoscere il mondo, questo sì. Quindi, per me... Visitare le opere degli altri, parlare con gli altri artisti, questo sì, è molto importante. È molto importante, il confrontarsi e quindi... E poi vivere, perché è della vita che nasce l'arte. Che l'arte, che bella frase. Senta, a proposito della vita, a proposito dell'arte, Giulia, andiamo intanto... Carlo, andiamo intanto sull'opera numero tre. Così? Abbiamo notato che nelle sue opere ci sono tantissimi, magari stili artistici, correnti artistiche. No. Proprio in generale, in termini del suo lungo percorso artistico. Questa è una città, praticamente, no? Sono le mie città impossibili. La città un po'... Ecco, la numero tre, le sue città impossibili. Le mie città impossibili, sì. Ok, lo vediamo sul monitor. Ecco, se lo vediamo sul monitor, la mia città è impossibile. La sua espressione, la sua espressività. Vede, per esempio, quella specie di reticolo di strade che... Lì mi sono ispirato a Borromini, nella Cappella Spada, il pavimento della Cappella Spada. Perché è chiaro che un artista non è una tavola bianca, insomma. O è una tavola bianca, su questa tavola bianca, però incide tutta la cultura che ha aspirato durante la sua vita. Città violenta, insomma. Ecco. Mi scusi, signora... Città violenta, questa è una città violenta. Ecco, ecco. Infatti c'è una motocicletta, poi c'è una donna nuda, insomma, eccetera, insomma. Quindi questo, ecco, è l'espressione di una città violenta. Mi scusi, è doveroso adesso sconfinare un attimo una sezione tecnica. Vuol darci, per cortesia, le dimensioni, all'incirca delle opere qui, la numero tre, ce lo ricordiamo? Ma sono piuttosto 80 per 90, roba di questo genere. 80? Più o meno, sì, 80 per 90, sì. Ah, ok. Allora, ritorniamo sulla quattro. Alessandra, era qui alla mia destra, non l'avete vista, però, dalla chat online, chiedono giustamente nella quattro, signor Pascarella, i nostri attentissimi telespettatori, molti anche appassionati, intenditori di arte, il cerchio, il significato. Ma guardi, io sono il teorico della pulsio art, no? Ecco, vorrei che poi ce ne parlassi un attimo, grazie. Allora, nella pulsio art quello che è importante sono le particelle infinitissimali della fisica. Ok. Quindi, una particella è una cosa rotonda, insomma, parto da lì, praticamente. Quindi c'è questo, questa... Ecco, quindi è un richiamo... È un richiamo anche, è un richiamo, sì. È un richiamo, ok, è un richiamo. Allora, stanno arrivando tante, vedo tante, tante domande. Prego. Una curiosità, che cos'è l'espansione organica? È molto semplice. Considerare un'opera d'arte come in nascita, in espansione, come un bimbo che nasce, come un albero che espande le sue fronde nello spazio. Quindi un po' in movimento e dilatata verso l'esterno, senza limiti fissi. Ecco, quindi tutti questi principi, questi concetti noi li ritroviamo... Ah, sempre, ho tutta una serie di opere sull'espansione organica. Organica, eccetera. O sulla poluzio arte. Allora, senta, io con il suo permesso, e con il permesso anche di Giulio, dalla regia, vorrei far vedere anche delle immagini di opere che non sono qui in studio, che la riguardano. Sì. E vediamo un attimo se la nostra... Oh, oh, oh. Ecco, questa è un'opera importante, è degli anni Sessanta, è grande, è un metro e cinquanta per uno e cinquanta. Anni Sessanta, signori. Anni Sessanta. Ripetiamo le dimensioni, mi scusi, signor Pascarella. Sì, uno e cinquanta per uno e cinquanta. E dove, veramente, qui era il momento in cui mi liberavo totalmente dagli archetipi, praticamente, che avevo usato prima di questo quadro. Questo è dedicato a Auschwitz. Quindi un altro tema. Un altro tema, sì. E per la prima volta, appunto, era molto libero nel... Usavo materiali, materia diversa, sabbia, gesso e altro, insomma, colori. Smalti, eccetera. Ecco, intanto facciamo vedere anche altre immagini. Sì, questo è anche dello stesso periodo, è dello stesso periodo. Queste li ho fatti a Tangeri, queste opere. Sempre anni Sessanta. Sempre anni Sessanta. Anni Sessanta. Sì, sono grumosi, sono grumosi, hanno una loro matericità. E mi scusi, signor Paschalella, sono opere ancora presenti o sono già in collezioni privane? No, sono presenti perché sono in casa mia, sono conservati per mio figlio, insomma. Vabbè, insomma. Beh, un bel patrimonio comunque va a lasciare. Nel frattempo, mentre la regia scorre altre immagini... Ecco, qui è un genere diverso comunque rispetto... Questo è uno degli ultimi quadri di sette, otto anni fa, insomma. Va bene, qui uso una tecnica diversa. Va bene, sono nell'astrazione, sono nell'astrazione. O che molti cicli espressivi, eh? Sì, ma io lavoro sui cicli, guardi. Ecco. Ecco, non so, il ciclo, per esempio, del Tronio del Silenzio, quindi magari ne parlerò. I cicli di concerti per Borromini. Avevo ripreso questa idea barocca da... Oh, allora... E questo è uno dei miei interni. Oh, e allora, fermiamoci un attimo qui. Io l'ho presentata con un artista a 360 gradi. Ha fatto molto design. Ecco, vogliamo parlare un attimino, un breve cedino della sua attività come design. Io sono stato molto fortunato in architettura e anche nel design. In che senso? Che mi ero appena lavorato quando ho avuto l'opportunità per coraggio di presentarmi a fare il progetto di un teatro importante a potenza. Il progetto già esisteva e era stato fatto a Milano da architetti, ingegneri e tutti. Io ho detto, vabbè, io l'ho visto questo progetto, dico, penso di poterlo fare più bello. Beh, dice, allora, se lei lo fa e ci piace, le faremo fare il teatro. Io sono tornato, allora abitavo a Napoli, ho lavorato giorno e notte per questo progetto, calcoli, eccetera, acustica. Sono tornato e ho avuto il progetto da fare. Quindi ho cominciato la mia attività di architetto con un progetto di un teatro che moltissimi architetti se lo sognano nella loro vita. perché non è normale fare un teatro. Da lì ho cominciato perché poi questo teatro piaceva e venivano altri, per cui io veramente non sono mai andato alla ricerca del lavoro. È sempre il lavoro. Però con una sola considerazione, io ho sempre pensato, mentre disegnavo una qualsiasi cosa, una sedia, un tavolo, che quell'elemento, quel mobile fosse l'ultimo della mia vita, che potevo morire l'aumento all'altro e che quindi dovevo dare dentro il meglio di me stesso. Solo questo ho fatto e basta. Questo è un gran consiglio che io personalmente ho colto. Insomma, spero che anche voi a casa abbiate colto. Possiamo vedere, non so, ecco, e qui sconfiniamo... Qui sconfiniamo nel gioiello, no? Nel gioiello, signore e signori, ma signore in particolar modo. Sì, questo è stato uno che ho regalato a mio figlio, questo gioiello. Va bene, dove in fondo c'è il mare, perché noi andavamo sempre insieme in catamarano, no? Ah, che bello. Dove parlavamo delle nostre avventure reciproche. E poi, insomma, è quello. Ecco, vediamo altre... Mi scusi, ma io la costring ho e qui siamo tornati nuovamente. Questo è il mio ultimo lavoro. Il mio ultimo lavoro è una sedia completamente trasparente, in plexiglass, che io non ho mai fatto mobili di serie, perché li ho sempre rifiutati. Perché ho sempre lavorato per il mio cliente, facendogli i mobili soltanto per lui. Per lui. E naturalmente lo interrogavo molto sulla sua cultura, sul suo modo di vivere, eccetera. Quindi pezzi unici. Sono tutti pezzi unici. A fatto perché mi piaceva inventare sempre qualcosa di nuovo, no? Ma poi è proprio per questo, anche perché ho pensato da sempre, che i bellissimi mobili industriali, i stili industriali, saranno alla fine di cadaveri lungo le periferie delle grandi città del mondo. Perché alla fine stancano. I miei mobili non stancano perché hanno una compartecipazione con l'arte, con la scultura. E io li considero semplicemente come qualcosa che deve essere fatta dalla luce. La luce deve incidere su queste cose e manifestarli. Senta, allora ritorniamo in studio. Nel frattempo Bruno D'Ammilano la ringrazia per aver espresso. Nel frattempo era andato su Wikipedia, ci scrive, quindi a documentarsi. Per aver espresso in pochissime e chiare parole, semplici parole, il concetto di pulzio art. Ecco, quindi ci tenevo ai ringraziamenti, a porgere i ringraziamenti del signor Bruno. Senta, qui abbiamo parlato, signori, di decenni e decenni di pittura, di ricerca, di design, di tutto e di più. Mancano pochi minuti al termine di questa intervista, anche se vi anticipo a casa che ce ne saranno altre, qualora il signor Pascarella ci dia ovviamente la sua disponibilità. Io le chiedo, in virtù di tutti questi decenni, di questo suo immenso bagaglio culturale ed artistico, che tipo di artista lei si sente di essere oggi? Sì, io sono un ricercatore. Un ricercatore. Sono un ricercatore. Praticamente, quando ho dipinto un quadro, un oggetto, una cosa, che è riuscito molto bene, avrei potuto ripetere con delle piccole variazioni questo oggetto, questo quadro, per farmi riconoscere, no? Dice, la mano è come Morandi, le bottiglie, eccetera. Io ho sempre rifiutato questo atteggiamento. Per me ogni opera è un'avventura, è una ricerca. E quindi, quando ho dipinto un'opera, l'ho sempre messa contro il muro e l'ho riguardata dopo sei mesi, per evitare che mi potesse influenzare per fare qualcosa di così. Per le arti. Un'ultimissima domanda e poi lasciamo il nostro pubblico, la lasciamo andare, ritornare a casa. Qual è il tipo di collezionista che si avvicina alla sua arte? Il collezionista che si avvicina alla mia arte è colui che, una volta che ha messo sulla parete il mio quadro, lo vado spesso a vedere. Perché dietro le impressioni principali, il disegno principale, così più evidente, ci sono delle metafore che vanno capite e che arricchiscono anche lui. Praticamente io non gli vendo il quadro, ma gli vendo il quadro più lo specchio di se stesso. Di se stesso. Quindi avrà un compagno nella sua vita. Quindi possiamo dire che un quadro non va semplicemente visto, ma va saputo anche leggere. Leggere va amato. Va amato. Va amato, sì. Va amato. Allora signori, con queste parole, con questo consiglio, questa lunga esperienza dell'artista Annunzio Pascarella, io vi lascio, ringrazio il signor Pascarella, grazie infinite per me, è stata una bellissima intervista che sicuramente mi ha arricchito e devo dirle, non le faccio una sviolinata in diretta tanto per, ma è un piacere ascoltarla e sentire la sua storia. È molto cortese. Grazie, grazie infinite signor Pascarella. Allora signori, io vedo se la mia regia è pronta, lancio la clip dell'artista Giorgio Levi e ci rivediamo tra pochissimo, brevissimo break pubblicitario. Grazie a tutti. Giocando su uno stravagante equilibrio tra spazio, forma e colore, Giorgio Levi racconta nei suoi lavori il dualismo tra macro e micro. In una danza di colori si muovono infiniti microorganismi, grandi e profondi nel significato, pur se piccoli nelle dimensioni. È il suo modo di portare sulla tela ciò che spesso sfugge all'occhio umano, l'essenza delle cose. Un percorso artistico, quello di Giorgio Levi, lungo e diversificato, che lo vede protagonista sin dagli anni 50. Frequenta l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, sua città natale. Partecipa a tanti avvenimenti artistici, distinguendosi sempre per uno stile molto particolare, improntato inizialmente su figurazioni astratte ed informali dal carattere prevalentemente geometrico. Poi con riferimenti più espliciti al microcosmo e alle forme molecolari. Proponendo una sorta di caos primordiale, di situazioni dinamiche ed in continua evoluzione e mutazione, un magma cromatico dal quale si generano forme essenzialmente astratte ma ben distinguibili, l'artista stimola la creatività di chi osserva, provocandone l'attenzione. Già Kandinsky, nei suoi studi sui colori, mostra in una serie di cerchi concentrici non perfetti ma brillanti ed appariscenti, l'aspetto emozionale del colore, quella capacità propria delle singole tonalità di far sentire come reale anche ciò che non lo è, di descrivere sensazioni intime ed interiori che vengono fuori solo quando il colore stesso si manifesta. E' proprio questo sentimentalismo realistico dell'astratto kandinskyano che Giorgio Levi coglie e che nei suoi lavori diventa raffigurazione di forme arabescanti che si muovono libere nello spazio, diffondendo emozioni. La scansione rigorosa della superficie pittorica si ammorbidisce, la figurazione risulta più tondeggiante, un insieme di tante piccole cellule colorate scandite da un segno di contorno più scuro, che si inseguono e si distribuiscono sulla tela con armonia ed eleganza, con una vivacità cromatica che trasmette piacere e gioia, ma anche tormento e malinconia. Sensazioni contrastanti perché è nel dualismo che si fonda l'intera poetica artistica di Giorgio Levi. Dualismo della forma, che nel suo intrecciarsi genera spazi pieni e vuoti. Dualismo della materia utilizzata, pigmento integrato con plastiche, gomme, cartoni, legno e tela. Dualismo di interpretazione, dove la raffigurazione mostra la propria realtà, ma allude anche ad un significato interiore. Segna il legame o il contrasto tra razionale ed irrazionale, tra fantasia e verità, tra formale ed informale. Puntando sull'espressività del colore, l'artista entra fisicamente nel quadro. L'immagine si presenta come sezione di un insieme di pigmenti, di materia pittorica, che ci mostra così la sua essenza più intima. Le singole cellule cromatiche, evidenziate ma talvolta anche cancellate dai pesanti segni neri, si combinano sulla tela, si avvicinano le une alle altre, come tanti esseri primordiali che vanno a generare un accostamento di sensazioni e di emozioni, positive e negative, amore e odio, bene e male. Un ritorno all'origine, un voler conoscere se stesso e scoprirsi come piccola parte del tutto, del macrocosmo fisico in cui viviamo.